Musica Abbiamo argomento l'informatica per portare l'azienda di famiglia nel nuovo millennio. A Alessolo, la Iorio, che realizza prototipi meccanici di ogni genere. Gabriele Russo. Dalle maniglie delle portiere al freno a mano fino a minuscoli connettori con fori millimetrici. Tutto ha bisogno di un prototipo e in canavese, a Alessolo, resiste e cresce un'impresa che conta oggi 15 dipendenti e 1,2 milioni di euro di fatturato in crescita costante. Nata come realtà meccanica, l'avvento della seconda generazione ha portato l'informatica facendo della meccatronica il cuore pulsante della Iorio. Andiamo dal campo dell'automotive fino al campo dell'avionica. Nell'automotive possiamo progettare delle attrezzature per il controllo con l'audio che si chiamano semplicemente master ma che a bordo hanno tantissima elettronica fino all'avionica. Sullo sfondo Ivrea è quel sogno firmato Olivetti di cui restano ampie tracce. Adriano Olivetti ha portato al mondo il canavese con la sua utopia perché non possiamo fare così anche noi ora con le tecnologie moderne, con il web, con il cloud, con la comunicazione, con i social. Puntiamo molto sull'innovazione del marketing, della comunicazione. Sfruttiamo un website che è essenzialmente una vetrina statica e attorno ad esso girano dei satelliti come gli eventi, le newsletter e i social. Dai macchinari al sito web la parola d'ordine è innovazione, non certo una novità per il canavese ma probabilmente la strada maestra per dare al territorio un futuro.